Grazie a tutti No perché io ho iniziato leggendo delle note di regia vostra dove elogiavate il lavoro dei vostri attori e quindi da lì è partito tutto Io invece parto da questo, dal western alla tragedia shakespeariana alla storia di mafia che poi non è altro, come dite anche voi, delle due cose insieme Questo è il punto di partenza per That Guy o quale? Beh c'è tutta una concatenazione di cose, cioè il western fondamentalmente l'ha inventato Kurosawa Kurosawa aveva portato nel Giappone, nel medioevo giapponese Shakespeare Quindi i western sono tragedie shakespeariane Raccontare la mafia e la Sicilia eccetera per certi versi ci avvicina a quelle lotte di potere, a quei temi lì E i temi che animano Nino Scodellaro che può essere associabile a un Macbeth per ambizione, vanità, per ossessione di quello che è il proprio obiettivo Cioè di portare avanti qualcosa di fortemente giusto sulla carta, cioè io combatto la mafia E di agire nel perseguimento del bene, quello che lui è convinto sia il bene, nel momento in cui gli impediscono di farlo La scorciatoia del male Quindi pensavo che questo argomento, il più universale di tutti Cioè l'uomo che cerca di compiere il bene, ma in realtà sta compiendo tutti gli effetti di una vendetta Potesse essere un buon motore per una storia in cui puoi mettere un po' di tutto, diciamo Allora, come dicevo a Luigi e Claudia, finalmente un personaggio che è non solo Nino Scodellaro Ma tutti anche il personaggio di Claudia Che non può essere categorizzato sotto il buono e il cattivo Perché ci possiamo chiedere cosa significa bene, cosa significa male Se la vendetta sia giusta o no, quindi l'ho trovato liberatorio anche per lo spettatore Perché puoi spaziare proprio anche e puoi anche un po' spiazzarti Nel trovarti a non sapere bene se stai prendendo le parti e se le stai prendendo giuste Perché non c'è Ma infatti era uno dei nostri obiettivi, cioè quello di non essere appunto etichettanti Non dare etichette, non dire questi sono i buoni e questi sono i cattivi C'è della bontà nei cattivi e c'è della cattiveria anche nei buoni Questo lo abbiamo esplorato E il titolo alla fine poi dice tutto perché The Bad Guy Poi alla fine a noi piaceva proprio nel suo essere guy Cioè personaggio non è Perché può essere chiunque dei nostri personaggi, il bad guy Praticamente il bad guy è proprio il cattivo delle storie Il cattivo delle storie fondamentalmente Non stiamo dicendo che Nino Scotellaro è il cattivo Magari è quello che vedremo Che porterà alcune persone del pubblico a pensare Ok adesso forse è andato un po' troppo in là O forse sta ancora fingendo ancora una vittima Quindi vogliamo che il pubblico non prenda delle decisioni Se è anche lui confuso Cioè non ho capito bene in questa storia chi sono i buoni e chi i cattivi Salvo magari poi sorprenderlo con dei colpi di scena Che speriamo che ci siano Parliamo dello stile del feed, dell'estetica del film Ecco tutta questa paradossalmente libertà Genere, il mix, i generi, il crime Di come avete detto anche voi Dark comedy, crime Però allo stesso tempo questa possibilità di attraversarli E giocarci tanto Ecco come l'avete gestita visivamente? Come l'avete messa in scena? In realtà non lo sai Facciamo da quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro Anche se poi il lavoro vero e proprio Non è perché ci divertiamo tanto a farlo Quindi Però è un po' quello Cioè noi giochiamo molto con i generi Non ci piace anche lì dare delle etichette Cioè non ci piace dire Ok questa è una storia di mafia Quindi la racconteremo come una classica storia di mafia Anzi no, al contrario Cioè se è una storia di mafia A noi piace raccontarla come se fosse una commedia nera Quindi se invece facciamo una commedia Ci piace raccontarla come se fosse un dramma Cioè non ci piace Cioè rimanere negli schemi Ci piace un po' andare oltre Però ecco Questa è una cosa che ci viene abbastanza naturale Perché poi nella vita Noi crediamo che appunto Un elemento dissonante di comicità Che suscita una risata Può accadere anche nel momento più tragico e triste Della vita quotidiana Ecco Banalmente citiamo sempre Enricchi Gervais Che dice Ai funerali Si può ridere Sì Si può ridere Perché anche nel dolore Mentre uno piange un caro Gli capita di ricordarsi qualcosa Che accada qualcosa di totalmente casuale Inaspettato Ed è quello che noi abbiamo fatto Anche in una serie di mafia Dove teoricamente Le risate sono dall'altro lato Lato opposto Mi parlate invece della scelta Non direi scontata Della lingua Del palermitano Che voglio dire Mi aspetto sempre di tutto Quindi non è scontata Considerando anche che Questa è una serie Che ricordiamoci Italiana sì Palermitana Siciliana Ma la vedranno tutti Speriamo Speriamo Tutto in Corea Noi puntiamo molto sulla Corea Voi scherzate Ah davvero Eh esatto Ci sono Le grandi serie in Corea Insomma La Corea È una delle grandi serie coreane L'abbiamo viste Molto spesso in coreano Esattamente Non vedevamo particolari problemi Esatto Infatti Prima che un problema Di carattere Diciamo semantico Registico Della scelta del palermitano È stata più che altro Una questione appunto commerciale Scusate ragazzi Escono le serie in coreano Facciamo una serie in palermitano Ah sì Perché poi alla fine È così che si parla A Palermo Cioè alla fine Noi possiamo fare I ripuliti La lingua italiana Come dicevano Gio Scarpelli La lingua italiana È una lingua parlata Dai doppiatori L'italiano Non esiste Non è una lingua che esiste Esistono i dialetti Si viene a Roma Si parla il romano Se si va in Toscana Si parla il toscano Il livornese Il pistoiese Il palermitano È diverso da quello Che abbiamo sentito finora Nelle varie serie Film Dagli anni Da sempre Perché noi sentiamo Abbiamo abituati A sentire un siciliano Ripulito Che è un po' più catanese Se vogliamo Io da napoletana Sono un po' più fortunata Leggermente più fortunata Napoletana è più facile Infatti il napoletano Ha avuto uno sdoganamento Più facile Nel corso degli anni E Diciamo che il palermitano Era una novità Perché Fatti proprio quello C'è un po' più Ma perché No Perché no Si è fatto Gomorra Su Burra Su Burra Perché non Abbiamo visto Serie coreane Con i sottotitoli Ci saranno Dei momenti Il teatro Nel teatro Goldoni Ha fatto intere opere In veneziano Non ci siamo mai spaventati Davanti a questo È la lirica Che ha creato il problema Nella lirica Si parlava italiano Si doveva portare la voce La lirica Che ha creato una lingua Non è che non esisteva Sicuramente Siamo oltre la lirica Sì Ormai il pubblico Penso che sia anche Abbastanza allenato A fare questo esercizio Di leggere i sottotitoli Poi completa mentalmente Se si perde dei passaggi Non è importante Infatti Anche se non ha capito tutto Non fa niente Perché comunque Arriva lo stesso Le stesse serie americane Che guardiamo Noi pensiamo che sia inglese Ma Euphoria Non è inglese Non è americano È uno slang Strettissimo Infarcito I neologismi Che probabilmente Capiremo tra dieci anni Saranno già vecchi Assolutamente sì Ragazzi Prima di Lasciarvi Vi chiedo Ecco Dobbiamo aspettare L'8 dicembre Per sapere Il pubblico Cosa ne penserà Quindi chiedo a voi Intanto Di cosa siete più orgogliosi Rispetto a questa serie Senza influenza Ecco da Quello che avete respirato Che è la percezione Proprio voi Giuseppe Stasi Giancarlo Fontano Ma io personalmente Sono Rapido Sono orgoglioso Di aver fatto una serie Che alla fine È come l'avevamo pensata Cioè questo È venuta fuori È stato difficile Soprattutto all'inizio Far capire Questa cosa qui Cioè Questo mix di generi Questo tono Un po' Sopra le righe In alcuni casi Un po' Distaccato ironico Però alla fine Noi ringraziamo Indico Amazon Che ci hanno dato La libertà Poi di Di farla E quindi Speriamo che questa Questa cosa Si possa apprezzare Sia un punto A favore Beh sì È più o meno Quello il pensiero Sono anche orgoglioso Che attori insomma Come Luigi Locascio Claudia Pandolfi E tutto il resto del cast Di attori meravigliosi Siciliani Vincenzo Pirrotta Fabrizio Ferragane Ivano Calafato Giulia Maenza Selene Caramazza Abbiano creduto Fin da subito Nel progetto E quasi naturalmente Perché Non abbiamo quasi Fatto fatica Hanno capito Che tipo Il progetto era Che tono doveva avere Che atmosfere Doveva avere Quindi Quando succede questo Su un set Non succede Non succede Così Così spesso Però quando succede Deve essere orgogliosi Deve essere orgogliosi Perché dici Ok vuol dire Che questa cosa Si comunica da sé Quindi Allora Giuseppe Stasi Giancarlo Fontana In bocca al lupo Per The Bad Guy Qui in anteprima Al quarantissimo Torino Film Festival Dall'8 dicembre Su Prime Video Io sono Chiara Nicoletti E questo è Fred Da Festival Insider Grazie 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 Grazie